e se non era per quel rigore lì il 2 a 1 ragazzi questa partita probabilmente sarebbe anche forse chissà andate su polimentari adesso siamo a tre minuti più del cupolo dalla fine e la roma vince 2 a 1 grazie al rigore da suonato di valo di bala un rigore che ragazzi onestamente parlando ve lo dico già per poi già pensare parlare a livello di calcio perché poi degli episodi a me non piace tanto parlare per me non è mai rigore ha dito proprio sinceramente perché ser nicola si molto ingenuo a scivolare da quella parte di campo perché poi alla fine spinazola verso il fondo a crossare però ragazzi quando ser nicola va in scivolata la gamba rimane lì cioè non va mai a impattare con spinazzola anzi spinazzola che va verso appunto la gamba di ser nicola e giustamente poi il conto c'è perché cade però ecco un po tipo un rigore cercato furbo la parte di spinazzola ma al giorno d'oggi sti rigori non si danno perlomeno anche a turamma l'aveva andato non mi ricordo con che partita però poi è un rigore che farà molto discutere questo poi la roma secondo me sarebbe andata comunque a vincere la sta partita perché aveva messo a zmoon lukaku di bala ha messo di bala attrazione offensiva no tanto peso lì davanti tanta qualità e prima o poi il gol ti arriva però ecco appunto perché la roma aveva comunque vinta secondo me farli passare in vantaggio con un rigore del genere stona un pochettino cremonese che secondo me alla fine gli vato atto no perché va giù a roma e se la gioca se la gioca primo tempo sicuramente meglio la roma secondo me perché alla fine non ho avuto le cose le più importanti inoltre di belotti alti scuola traversa quel cross sempre di cross di caso non sbaglio con quella ginocchiata di belotti intrati di rigore c'è il portiere che fa la parata la respinge sulla respinta pellegrini tira una bordata clamorosa palla che si impatta sulla traversa va per terra e la palla calpezzaglia di porta quindi non non vibrare anche il roggio dell'arbitro quindi sfortunata anche lì la roma in quella circostanza e poi ragazzi invece la cremonese con un gol anche un po non random però ecco con questa palla alta no e c'è la qui spazza male la palla viene rimessa dentro iorente non copre bene palla che viene ancora alzata c'è giù prima col col mancino e la mette giù e poi col destro in spaccata anticipato l'istante la trova il gol del dell'1 a 0 la cremonese addirittura addirittura quindi quindi ecco solamente la cremonese va in vantaggio anzi poi vicino anche al secondo gol con zanimacchia quel tiro a giro per la palla non esce fuori neanche di tanto e niente a inizio secondo tempo la roma parte forte con quel tiro di asciaravi deviato anche è meglio che sia deviato perché quella palla mi importa invece per questa diversione qua permette la palla e andare sul palo quindi il secondo legno per la roma per la roma quindi sfortunata da questo punto di vista ma poi attenzione perché la cremonese ha avuto l'occasione con coda ve la cito anche se è andato fuori gioco perché per me quello di coda non era fuori gioco molto Paus Villar in uscita a fare quella ottima parata e poi ripeto ragazzi butti dentro comunque di bara a smoon tutta gente offensiva la prima piano ha attaccato e ha trovato i suoi gol bellissima azione dove la palla viene recuperata palla di bala che la dà per via centrali a smoon di prima attenzione la dà a lukaku che fa un ottimo ottimo taglio lukaku davanti al portiere piazza al pallone non sbaglia uno a uno e la roma pareggia i conti poi di bala ha avuto un'occasione di trovare i rigori dove lì quelle palle non deve sbagliarle un mancino alto spara la traversa dove lì Paolo deve fare meglio e poi ripeto c'è questo rigore qua un po' farlocco dove Paolo di bala poi tra l'altro la tira molto bene perché è molto forte e potente mezza altezza quindi rischiosa però la palla è davvero molto forte è angolata lì dove il potere la cremonese aveva anche intuito il tiro ma non ci è arrivato perché il rigore era perfetto quello di Paolo di bala è davvero perfetto e quindi la roma ragazzi per il momento si sapeva questa pietà a casa da 2 a 1 e niente mancano esattamente 3 minuti e mezzo alla fine di questa partita comunque ripeto onore alla cremonese perché siamo venuti a giocare probabilmente se di solito non cambia ragazzi ai quarti di finale avremo il derby di Roma perché è la Lazio quella che andrà a affrontare la vincente di queste due partite in questo momento la Roma e mancano 3 minuti alla fine un derby comunque ai quarti di finale di Coppa Italia è comunque interessante ragazzi è comunque interessante comunque troppa fatica se vogliamo poi per carità brava la Roma a passare perché comunque squadre come Inter come Napoli sono uscite da questa competizione quindi se giugia passi è un plus perché è un plus però troppa fatica troppa fatica contro una cremonese che pur sempre è una squadra di serie B troppa fatica perché poi la Roma non ha fatto quell'ampio turn over turn over massiccio massiccio come tipo magari un Napoli dell'altra volta con Mazzarino contro l'altra squadra mi ricordo con Frosinone comunque la Roma a parte con Belotti e Lukaku di davanti che buttali via c'era comunque Pellegrini dall'inizio c'era Carlsdorp cioè comunque c'era turn over ma non era un turn over completo nonostante tutto la Roma ha fatto fatica c'era Roma ragazzi fa zero gol finché di Bavano entra in campo fateci caso Di Bala entra in campo ok trasforma rigore va bene dubbio non dubbio però anche sull'azione del primo gol il passaggio mi piace in tali per Azmune è di Bala poi Azmune molto bravo di prima dare quella palla e imbucare per Lukaku che poi Lukaku fa gol davanti alla porta però entra di Bala la Roma cambia e io mi domando ma è possibile che serva per forza di Bala anche contro una Cremonese perché se no tu stai andando a perdere questa partita mi sembra un po' troppo esagerato ecco io penso che il gioco del calcio sopra benissimo si gioca in 11 giocatori quindi deve essere un gioco di squadra e non è possibile che questa squadra se i togli di Bala diventa il 60 al 50% di Bala è il 50% della Roma cioè parliamoci chiaro se non il 60% quando entra di Bala è un'altra Roma e la Roma va anche a vincere come stasera se non c'è di Bala male male ed ecco quando ci sono queste pietre qua che tu puoi far rifiatare se vogliamo determinati giocatori non puoi farli rifiatare del tutto perché hai sempre bisogno del loro aiuto per portarsi a casa la nostra partita per il resto a parte questo non ho altro da dire ragazzi fatica fatica per la Roma però vittoria adesso mancano due minuti si mancano no manca un minuto ragazzi manca un minuto di recupero e c'è un calcio d'angolo se non sbaglio per la Cremonese che chiuderà questa partita in attacco sale anche il portiere della Cremonese ragazzi quindi occhio a un possibile contropiede alla Roma che eventualmente la porta è sguarnita completamente però ragazzi sono curioso di vedere il derby sono curioso sempre affascinante spero non un derby bruttino come quello della attenzione palla dentro tiro la palla di Valeri spazza la Roma e c'è la porta è libera ragazzi di balla c'è al pallone e Sharawi la porta e Sharawi 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 e gol a porta a vuoto e Sharawi se lo mangia ragazzi a porta a vuoto e Sharawi se lo mangia è vero è la distante perché la distante è la centro ha soppato il centrocampo da poco cioè non è che è a teatro da vicinissimo al Sharawi appena soprattutto il centrocampo e Sharawi ha chidato però per via centrali ecco poteva fare meglio quel faraone porta completamente vuoto la sbagliata comunque vince qui ragazzi la partita Roma che vince 2-1 soffrendo possiamo dirlo faticando non soffrendo faticando contro la cremonese derby del quarti niente qui da me che è tutto ragazzi like iscrizione e vi raccomando commentate e campanina anche attiva bella ciao ciao